Comandante Meloni, ecco l'abbiamo detto spesso, i bambini possono insegnare agli adulti la tutela del mare, il caso di queste due bambine che raccoglievano le cicche di sigaretta da terra. Un gesto non scontato ma estremamente significativo. Sì, un gesto significativo, un esempio per tutti. Questo secondo me va anche collegato a tutta l'attività che con l'area marina protetta, con Marevivo, noi come Guardia Costiera stiamo facendo anche sul territorio per disensibilizzazione nelle scuole e questi sono i risultati, vedere questi ragazzi che per primi cercano di intervenire sull'ambiente, sul rispetto delle nostre spiagge, sull'attenzione verso il consumo, l'uso della plastica e soprattutto sul riciclo della plastica. Quindi questo è il frutto di qualcosa che è già partito da tempo, di sensibilizzazione, è un gesto, secondo me è un messaggio di ottimismo per il futuro. Le nuove generazioni, questi ragazzi, immagini i ragazzi di Plasticless che qua sull'isola di Ischia rappresentano ormai una istituzione, sono un messaggio che parte da Ischia per dire a tutti quanti che noi siamo attenti all'ambiente, vogliamo rispettarlo. È un processo che non può durare, non si risolve in pochi giorni, però è qualcosa che è partito, a cui è partito in maniera significativa e questi due ragazzi ne sono l'esempio. Diana e Gaia abbiamo bisogno di questi esempi, prendere piccoli gesti e diventare notizia è un po' quello che deve essere il nostro lavoro di giornalisti, però molto spesso siamo calati in quella che è la cronaca, ovviamente una ragazzina che leva una cecca da terra, ma che notizia è? Diventa notizia se la riusciamo a mettere a vedere in una visione un po' più ampia. Premiare Gaia e Diana serve semplicemente a dirci a ognuno di noi che possiamo fare qualcosa e soprattutto che possiamo tornarci a stupire delle piccole cose. Poi io sono uno di quelli che pensa che il web aiuta a cambiare il mondo e pensate che questa iniziativa sia nata da un semplice post Facebook, ovviamente un po' diciamo ci fa piacere perché è la rete ai quali noi, un po' in questo mare dove lanciamo queste bottiglie, molto spesso arriva il post che fa la fortuna. Tutte le giaccele che abbiamo fatto sul plastic free, le ordinanze, arrivano o non arrivano? Poi siamo fortunati, arriva una bimba e ci ricorda, ci dà il colpo di genio, possiamo pulire anche con un retino. Passeggiavo e ha colpito la mia attenzione questa bimba che era piegata con questo retino, mi sono un po' affacciata per vedere cosa ci fosse nel retino, visto che c'erano delle cicche e mi è partito da fare una fotografia perché era una cosa che mi ha emozionato molto. La sera a casa ho pensato che poteva essere condivisa sulla mia bacheca Facebook e ho scritto di getto quello che avevo provato vedendola. Non mi sarei mai aspettata che dal giorno dopo si creasse tutto l'interesse che è successo. Per loro era un gioco, avevano visto questa distesa di cicche tutte accumulate sotto al muretto e per giocare hanno preso i retini e hanno detto perché non giochiamo a raccoglierle. Quindi è stato un gesto maggiormente bello perché gli è nato dal cuore, quindi è una cosa che emoziona ancora di più.